siamo arrivati alla fine di marzo in questi tre mesi ti ho tenuto informato sulle mie operazioni di compravendita del mio portafoglio però non ti ho detto come sono state le prestazioni del mio portafoglio ho fatto bene ho guadagnato ho perso soldi sono rimasto in pari e poi i dividendi cosa è successo sono aumentati sono diminuiti tutte domande alle quali vado a rispondere oggi però subito dopo la sigla ciao a tutti e bentornati sul canale io risparmio come sempre sono pasquale il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto questo primo trimestre del 2022 sembrava essere partito abbastanza bene a meno per quanto mi riguarda e invece poi a febbraio ci ha riservato una bella patata bollente con l'invasione da parte della federazione russa nei confronti dell'ucraina oltre alla drammatica crisi umanitaria che spero vivamente finisca al più presto ovviamente anche i mercati hanno incontrato una forte volatilità e questo ha portato in alcuni casi anche a dei relativi drawdown ogni portafoglio ha performato in base alla propria composizione per cui ci tengo a ribadire e precisare che nessuno è un fenomeno o un grande investitore né tantomeno un fesso se ci si basta solo sui rendimenti che sono stati ottenuti in positivo o in negativo riguardo a questi eventi inaspettati ovviamente ognuno di noi va a costruire le proprie posizioni in base a obiettivi di medio breve o lungo termine alla precisione del rischio e l'arco temporale che ha ne abbiamo anche parlato a lungo in video precedenti soprattutto nella serie relativa agli etf per i quali domani torniamo con un nuovo video magari vi lascio la playlist qui da qualche parte per cui ora andiamo a vedere come si è invece comportato il mio di portafoglio quello personale quello reale in questo contesto particolari e quali possono essere le considerazioni che possiamo trarne da questo per cui non dilunghiamoci troppo andiamo al pc ed eccoci qui sulla schermata dei rendimenti del mio portafoglio come vedete c'è stato un leggero calo ovviamente vi spiego subito perché se vi ricordate io ho venduto due posizioni quella di google per cui di alphabet e quella di microsoft che hanno portato via dai miei investimenti più o meno circa 3500 euro che sono andati come vi ricordate dal video apposito a coprire alcuni debiti e anche alla creazione di macro fin della ditta la mia piccola aziendina come tale c'è stato un calo però in linea di massi nel portafoglio ha continuato a guadagnare e ovviamente vi faccio vedere su simple wall street dove appunto vado a seguire il mio portafoglio prima di andare a vedere ciò però volevo farvi vedere prima di tutto quali sono i titoli migliori e peggiori del mio portafoglio e anche quanto ho un cassato di dividendi questo mese perché marzo 2022 per me è stato il record di dividendi da quando ho creato questo portafoglio andiamo subito a vederli eccoci qua con i dividendi del marzo 2022 come vedete c'è stata una leggera progressione anche se febbraio è stato leggermente in calo per cui devo andare a accumulare anche a qualche posizione per fare in modo che mese dopo mese il mio portafoglio possa dare un flusso più o meno costante con delle cifre più o meno simili come si può vedere quello che ha effettivamente cambiato le carte in tavola è stato l'aggiunta di mlpd l'etf che ho aggiunto io sull'energy infrastructure che mi ha portato 25 euro questo mese e poi allans bernstein che è uno dei bdc che ho in portafoglio che mi ha portato 16 euro e 35 oltre al fatto che anche ares capital corporation mi ha portato 14 euro gli altri sono tutti più o meno dividendi versili per cui ho fatto un record questo mese che più o meno il doppio quasi di gennaio circa 80 euro di dividendi e spero continuamente di aumentare mese dopo mese questo flusso di cassa per portarlo appunto a di farlo diventare una rendita aggiuntiva adesso andiamo a vedere anche prima di passare a simple sit quali sono i migliori titoli i peggiori titoli del mio portafoglio i migliori continua ad essere gladstone lan con un più 70 e 51 per cento iron mountain 30 punto 45 per cento pembina pipeline più 19 e 50 per cento cmc market più 17 e 23 per cento e se vi ricordate questo l'ho aggiunto a gennaio tra i peggiori quelli che sono gli unici in segno negativo sono main street capital l'altro bdc con un portafoglio che è un meno 0 36 per cento e di alt income che è un meno 61 per cento in linea di massima considerato che ricevo mensilmente dei dividendi da queste aziende poco mi importa anzi vorrei andare a incrementare prima possibile queste due posizioni poi diciamo fra le meno peggio anzi fra le meno meglio abbiamo scm stello scapita al management a più 4 90 per cento e pepsico a un più 4 86 per cento in linea di massima sono estremamente soddisfatto di come si sta comportando il portafoglio soprattutto in questo periodo di tumulti nel mercato europeo adesso andiamo a vedere qualche dato in più su simpivo street ed eccoci qui su simpivo street qui ci sono le varie posizioni inutili che andiamo a vedere insieme perché le sapete già quali sono questo è il rendimento del mio portafoglio alla data di oggi più 21 94 per cento con un capital gain per quanto riguarda il cambio più 6 47 per cento un dividend income 0 40 per cento e un capital gain totale il 15 0 6 per cento a livello di volatilità del mercato è leggermente al di sotto del market average abbiamo un 09 90 di beta e già mi sta bene se riuscissi ad abbassarlo con questi rendimenti sarei più che soddisfatto in termini di diversificazione un portafoglio fortemente diversificato che per vari motivi primo fra tutti i nuovi ingressi è un po sbilanciato su mlpd e su glenston land sia per quello che ho inserito io come investimento ma anche per il quello che è stato il ritorno sono due posizioni che mi hanno regalato qualche ritorno in più così come anche cmc market in termini di diversificazione del portafoglio totale qui si può vedere che è abbastanza diversificato sto cercando di diversificare giorno dopo giorno anzi mese dopo mese in ogni posizione il mio portafoglio sia in termini di diversificazione geografica in termini di diversificazione di valuta ed anche in termini di diversificazione di settori io sto cercando di diversificare il più possibile proprio per evitare che eventi locali o eventi di valuta o eventi di un determinato settore possono andare a impattare il portafoglio in maniera importante con questa diversificazione riesco più o meno ad ottenere un portafoglio che è piuttosto stabile poco volatile che dà dei buoni rendimenti e che mi fornisce un dividendo piuttosto importante tra l'altro secondo simple wall street il mio portafoglio è sottovalutato del 42 per cento ci credo poco perché la prima posizione in termini di guadagno gladstone land a mio parere è molto sopravvalutata rispetto a quello che è il suo valore reale di mercato ma quello è un altro discorso il mio dividendo medio in questo periodo è il 4,93 per cento ma in realtà è molto di più perché non so per quale motivo il mio buon amico simple wall street non va a prendere in considerazione in questi dividendi anche l'etf e come tale quel bel succosissimo dividendo del 7 per cento e più non viene incluso in questo però va bene lo stesso non è tanto quello che mi interessa perché a fine mese non mi interessa quello che si vede su simple wall street mi interessa quello che mi entra in tasca che è molto più importante bene ritorniamo alla mia faccia per le ultime considerazioni bene eccoci arrivati anche alla fine di questo video spero che questo mio aggiornamento mensile sia stato di tuo gradimento e soprattutto di interesse perché ti fai i fatti miei sui miei soldini e se così fosse ti chiedo per cortesia di darmi i tuoi feedback le tue impressioni e le tue considerazioni nella sezione apposta quella dei commenti che sta qui sotto mi piacerebbe anche sapere come sta performando il tuo di portafoglio se ne hai uno o più di uno e che obiettivi tu abbia condividi per favore con noi della community le tue incertezze le tue metodologie o semplici idee che hai in questo momento che ti girano per la testa cresciamo tutti insieme come community come sempre ti chiedo se questo video è stato di tuo gradimento di lasciare un bel pollice in in su per l'algoritmo di youtube ma soprattutto per la mia autostima personale e se sei nuovo su questo canale se passavi qui per caso iscriviti e clicca la campanella delle notifiche così che tu non debba perderti nessun video successivo bene anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovo video ciao 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 ciao